Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog stamattina ci sono le video di me contro te facciamo saluto delle trose aspetta aspetta se non vi siete iscritti lasciate un like iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti iscrivetevi perché è un canale bellissimo si chiama me contro te slash shop oppure ci sono le nostre maglie autografate dai me contro te pure di noi ma è lei ma perchè te la ma perchè te la melissa noi abbiamo preso le maglie originali aspetta eppure io ho preso la maglia originale e quando voglio scendere tanti mi piace non lo so che dobbiamo fare vi faccio vedere la mia casa aspetta aspetta se si vedere delle trose yeah yeah nini 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 ah con isabella i sabella faccio vedere le trose yeah nini 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 ora vi facciamo vedere la cazza che scrivo sto baby chuck ciao lo fate il controllo del video scusate ragazzi sbagliate ciao